Se la compassione è il linguaggio di Dio, tante volte il linguaggio umano è l'indifferenza. Farsi carico fino a qui e non pensare oltre l'indifferenza. E così chiudiamo la porta alla compassione. Ora, possiamo fare un esame di coscienza? Io abitualmente guardo da un'altra parte o lascio che lo Spirito Santo mi porti sulla strada della compassione, che è una virtù di Dio.